Lavorare per un mese questo qua non lo lavorano più, oggi fa fiato, oggi fa fiato, no ma va al galoppo, va, non è che. In ogni modo va molto forte, è già il quarto giro. Il padrone non riesce, se c'è, a fermarlo. Allora qua dovrebbe esserci, dovrebbe esserci uno a sella che si avvicina, gli prende le briglie e lo ferma. Negli Stati Uniti succede che c'è uno sopra una sella che si avvicina, prende le briglie e ferma il cavallo. Qua una volta c'era, tanti anni fa c'era. Una volta mamma lo faceva lui direttamente? Sì. Il cuore andava in pista e lo fermava con la forza brutta? Ma io senza sella, perché lo sa che io vengo dall'alto. Ma vai già la sesta volta che gira, ma è forte, eh? Questo male per lui. No, no. E non le può venire un infarto? No, è giovane, è giovane questo. A due anni questo, se fosse anziano, ma se fosse anziano avrebbe già smesso. Questo molto forte. Eccolo. Eh, ma vedi che sta già allentando. Sta già allentando. Eh, sta già allentando. E ti vuole della pazienza, adesso quando lui si è stancato si rilassa. E come dicevano a me, quando salivo su un cavallo, non avere paura. Tanto la pista è tonda. Quando il cavallo è stacco si ferma. Eh, però una cosa così non l'avevo mai. Beh, c'è stata la scorsa settimana, quale. Ha fatto otto giri prima che si siano fermato. Però a quella era anziana. Allora, lei mi spiega perché riesce a mantenere proprio attaccato alla righiera e non si sposta mica da lì, eh? Eh, no. Questo qua, all'altro invece si spostava, andava su e giù. Questo continua. Continua. Adesso comincia in passi diversi e va un po' più piano. Sì, sì. Quello che gli dà fastidio sono le cose, sono le briglie in mezzo alle gambe. Forse anche per quello che non si ferma, perché ha paura. Con le briglie in mezzo alle gambe si sente picchiare e poi non si ferma per quello. però non ha ripreso il trotto ancora si è calmato però il trotto non l'ha ripreso però si è un peccato che tu non l'hai potuto dimostrare quella volta che li prendi tu con la forza brutta perché io onestamente mi aspettavo che saresti arrivato fermati si è fermato guarda è veramente è ripartito non raccontare balle non raccontare fermo